Gesù, che si esprimeva sempre in maniera semplice e comprensibile, sparge con pazienza e generosità la sua parola, che non è una gabbia o una trappola, ma un seme che può portare frutto, se noi lo accogliamo. Così Papa Francesco, prima della recita dell'Angelus, commentando il Vangelo odierno. La parabola del seminatore, ha rimarcato il pontefice, riguarda ciascuno di noi, perché in essa troviamo una sorta di radiografia spirituale del nostro cuore. Il terreno sul quale cade il seme della parola può essere buono o impermeabile, oppure sassoso, dove il seme germoglia, ma non riesce a mettere radici profonde. Così è il cuore superficiale che accoglie il Signore, vuole pregare, amare e testimoniare, ma non persevera. Infine c'è il terreno spinoso. I rovi, ha chiarito Papa Bergoglio, sono i vizi che fanno appugni con Dio, che ne soffocano alla presenza, anzitutto gli idoli della ricchezza mondana, il vivere avidamente per se stessi, per l'avere e per il potere. Gesù ci invita oggi a guardarci dentro, a ringraziare per il nostro terreno buono e a lavorare sui terreni non ancora buoni. Chiediamoci se il nostro cuore è aperto ad accogliere con fede il seme della parola di Dio. Chiediamoci se i nostri sassi della pigrizia sono ancora numerosi e grandi. Individuiamo e chiamiamo per nomi i rovi dei vizi. Troviamo il coraggio di fare una bella bonifica del terreno, una bella bonifica del nostro cuore, portando al Signore nella confessione e nella preghiera i nostri sassi, i nostri rovi. Grazie. 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 Grazie.